Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola Maria Mercader, è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni 70. Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato una fiatata coppia comica con Massimo Boldi dal 1985 al 2005, riprendendola in seguito nel 2018. L'amante di Christian De Sica solo pensare che un uomo, con più di 40 anni di matrimonio, alle spalle provi affetto per un'altra donna, suona un po' strano. Ma la verità è che Christian De Sica non ha mai fatto nulla per nasconderlo. In aggiunta al suo matrimonio decennale, l'attore conta anche una carriera longeva, che l'ha tenuto parecchio tempo lontano da casa. Durante le riprese di numerosi film, l'uomo ha potuto contare su una moglie lavorativa, ossia colei che ne ha preso la parte durante le riprese di diversi film. Si tratta di Sabrina Ferilli, una bellezza mediterranea per eccellenza, con cui De Sica ha collaborato in diverse occasioni, creando così una splendida amicizia. Grazie a tutti.